Inedita per non dire storica, da sempre che questo nostro territorio conferite profonde sul dissesto idrogeologico chiedeva risposte concrete, mettiamo in campo risorse nazionali e regionali e con il concorso della BEI proviamo a dare una risposta significativa al dissesto idrogeologico, quindi la tutela, la prevenzione e proviamo a risarcire i danni che nel tempo anche a volte la mano dell'uomo ha determinato sul nostro patrimonio. Mettere in campo risorse per 400 milioni di euro e iniziare operativamente con una prima fisce di 100 iscritta in bilancio regionale con il concorso della BEI con un tasso di interesse su 25 anni ridotto quasi a nulla oggettivamente sperimenta azioni amministrative lungimiranti, anche inedite per la nostra regione e poi dà risposte concrete ai tanti comuni che fanno del nostro patrimonio un valore aggiunto. Un territorio, una regione che vuole valorizzarlo questo territorio, che ne fa un benchmark per essere spinto sulla visione di terra inclusiva e sostenibile, questa operazione mi sembra piuttosto importante.